Ciao e benvenuto, sono Andrea Concia e aiuto i ragazzi come me tra i 20 o 30 anni a costruirsi le competenze per trovare o inventarsi un lavoro di successo in modo tale che smettano di vedere il futuro come una minaccia e iniziano a vederlo come una promessa e quindi ad essere più felici, economicamente indipendenti e a raggiungere un futuro di successo. In questo podcast ti spiego quali sono le tecniche, le competenze e le strategie che mi hanno permesso a meno di 30 anni di realizzare il mio sogno. Essere un imprenditore di successo ma soprattutto una persona felice che ama il suo lavoro e ama le persone con cui lo mette in pratica. Partiamo con un pochino di domande che mi avete fatto in questa settimana. Partiamo con le vostre domande che mi avete fatto qualche domanda. Ogni sera ragazzi vi faccio la storia che mi potete fare domande per il giorno dopo. Partiamo con le domande più gettonate. Come acquisire sicurezza in se stessi? Giuseppe, la sicurezza in se stessi si acquisisce attraverso i riferimenti. Non c'è un'altra soluzione, non è che c'è la formula magica per la... No, a proposito stamattina vi dovevo spiegare una cosa. Non me lo sono dimenticato, è come trasformare le lezioni. Le avete fatte le tre lezioni imparate la settimana scorsa? Avete scritto tre lezioni imparate la settimana scorsa? Molto importante. Quindi come acquisire sicurezza in te stessi devi crearti dei riferimenti. Cioè devi crearti dei riferimenti che ti diano sicurezza. La sicurezza non è una cosa che accade così per... No, devi crearti dei riferimenti. Quindi magari puoi partire da qualcosa di piccolo. Per esempio non so parlare in pubblico, ok? Però anche parlare a due persone contemporaneamente è parlare in pubblico. Inizio con due persone, poi sono tre, poi sono quattro, poi sono cinque. Devi crearti dei riferimenti, ok? Poi un giorno magari vi spiego anche lo schema per cambiare le convinzioni. Convinzioni limitanti, convinzioni potenzianti. Tutta roba ragazzi che fanno pagare ai formatori. Roba che è a pagamento, nei corsi di pagamento. Io qui ve la do gratis perché è il mio obiettivo. Insomma voglio portare la crescita personale gratissima in modo tale che le persone possono avvicinarsi al lavoro su di sé come mi ci sono avvicinato io insomma. Pesce dice, sì io l'ho fatto, vi siete scritti le tre lezioni imparate. Avevo chiesto la settimana scorsa, lo potete fare anche adesso, di scrivervi le tre lezioni che avete imparato. Ora vi spiego anche perché. Finiamo con le domande e vi spiego anche perché. Per diventare un mental coach formatore mi chiede Giammo ci vuole una laurea o è possibile anche senza? È assolutamente possibile anche senza Giammo, assolutamente. C'è assolutamente bisogno della laurea, non serve. Anzi, direi che a volte a volte chi va lì a fissarsi sul titolo in questo mestiere qua perché poi esistono anche degli attestati. Noi c'è io ho l'attestato, non stare lì a rincurare l'attestato perché il coach non è un esperto di ricerca, è un esperto di risultati. Che vuol dire? Vuol dire che un esperto di risultati è una persona che fa, che ha ottenuto dei risultati. Il coach non si può fare per sentito dire, perché l'ho imparato, perché l'ho letto sui libri, non si legge sui libri, non c'è il titolo, il pezzo di carta. Ma vi dà fastidio sta luce che riflette, ragazzi? Oppure fa l'effetto un po' tramun? Perché è bello, cioè a me è piacevole, però magari a voi vi dà fastidio. Aspetta un attimo, facciamo così, vediamo un attimo con la storia. No, no, non mi fa parte nessuna storia. Quella storia bella che, eccola qua, che mi fa sembrare un po' più bello. Oh, guardate qua, c'è proprio un'altra cosa, un'altra cosa. Servono le storie di Instagram, ragazzi, ha fatto... Ah no, l'ho tolta. Instagram ha fatto una rivoluzione che praticamente ha riso... In che modo si fa la rivoluzione, ragazzi? Sentite storia, solamente solo questa vale tutta la diretta. La rivoluzione si fa rendendo semplici, semplici, le cose che normalmente sono difficili. Le rivoluzioni si fanno rendendo semplici le cose che normalmente sono difficili. Non state lì a rincorrere il titolo, non state lì a rincorrere, a scendere in piazza per protestare, non vi serve niente all'esterno, dovete cercare semplicemente di semplificare qualcosa, dovete rendere semplice una cosa che prima di te era difficile. Così si fa la rivoluzione, così si fa... Quindi sì, il concetto è che la rivoluzione si fa così, si fa così. Non dovete stare lì a rincorrere qualcuno o qualcosa, non è quello il punto. Non è quello il punto, non dovete scendere in piazza e spaccare tutto, non si fa così la rivoluzione. E le rivoluzioni si fanno quando tu semplifici qualcosa di difficile. Nell'ambito del coaching, per esempio, i coach... A parte che i coach sono... Tu fai il mestiere del coach perché hai avuto determinati risultati, perché altrimenti non puoi fare questo mestiere qua. Non è che io posso insegnare la comunicazione, non riesco a parlare in aula o se non ho... Cioè, capito, se non ho avuto determinati risultati sulla comunicazione. Infatti prima non lo insegnavo. Per anni, come sapete, mi sono occupato di metodo di studio. E a volte questa cosa è molto freddinibile perché poi è tutto collegato, anche il discorso del titolo. Tu stai lì a vedere il titolo e il titolo, ma il titolo non ti porta a nessuna parte. Non è quello che ti fa avere successo, insomma. E quello che ti fa avere successo è i tuoi risultati in questo mestiere qua. Ci sono altri mestieri per cui ovviamente è necessario la laurea e va bene così. Però anche lì, insomma, devi imparare, ovviamente, a sviluppare delle competenze perché altrimenti non lo puoi fare con successo quel mestiere. In questo mestiere qua, vi ripeto, bisogna essere degli esperti di risultati. Cioè, delle persone che hanno fatto. E da lì mi era venuta in mente questa cosa del dire anche io nel mio lavoro sono una persona che semplifica le cose difficili. Cioè, questa cosa che tu ho appena spiegato è un concetto comunque complesso. Io cerco di semplificarlo, esperti di risultati, esperti di ricerca, ma come se esistono anche concetti più complessi di questo e assolutamente vanno semplificati. E questo è lo che dovete fare nella vita, ragazzi. Dovete diventare dei semplificatori. Semplificatori di quelli che sono i risultati delle persone. Questo dovete imparare a fare. In qualsiasi lavoro che vuoi fare, dovete fare l'avvocato, dovete rendere semplice la legge. Volete fare il medico, dovete rendere semplice la medicina. Se volete essere seguiti, perché altrimenti non verrete seguiti da nessuno, sostanzialmente, e non potrete mai avere un successo deflagrante. Quindi, ultima domanda che mi è arrivata, poi parto con le vostre, ragazzi. Quindi iniziate a scrivermi le domande così vi rispondo qui dopo. Cos'è veramente la vita? Oddio, domande esistenziali, no ragazzi. Non so quanto abbia senso questa cosa. A parte che la vita non ha senso, nel senso se tu la vuoi razionalizzare non ha senso, perché non è una cosa razionalizzabile con la mente razionale. Mi spiego, perché c'è la vita? Il famoso senso della vita non esiste, non esiste dal punto di vista razionale. Uno può trovare altri sensi, ma non lo fai con la mente, non sono domande mentali queste. Questo è proprio sintomo di una persona che, intanto il sole mi sta un attimo dando alla testa, mi metto un pochino più qua. Sono proprio domande di persone che sono molto molto mentali, e non dovete starvi lì a identificare con la mente. Mi spiego ragazzi. È come se volesse sentire la cioccolata con il tatto, cioè non si può sentire il sapore della cioccolata con le mani. Non si può fare. E quindi, esattamente come non si può capire il senso della vita con la mente. Non è l'organo adatto. In effetti, esemplifico molte cose che sembrano montagne. Sì, Simone, cerco di fare questo. Mi sono dato questo obiettivo nel mio lavoro, e come sapete io faccio due diretti al giorno da un po' di tempo a questa parte, e una la faccio con il mio profilo, che sto portando in luce adesso, quindi siamo ancora pochi, stiamo iniziando, però lo voglio fare per un numero X di mesi. E sì, l'altro è il metodo universitario. Lì, per esempio, semplifiamo quelle che sono le materie del metodo di studio. Quindi, quello era l'obiettivo che volevamo darci, da questo punto di vista. Sì, il concetto è semplificare, ragazzi, perché tu stai lì e scopri una cosa difficile. Sapete quante cose difficili scopro ogni giorno e avrei voglia di spiegarle, però in quel momento magari non è il momento adatto per farlo. Non è il momento adatto, voi non avete ancora le competenze e le conoscenze che ho io, quindi che cosa faccio? Intanto adesso cosa faccio? Sto cercando di trovare la posizione perché sta cosa mia... E quindi sì, sostanzialmente è questo. Sostanzialmente è questo. Allora, andiamo con le domande. Sostanzialmente è questo nel senso di semplificare. Ma per esempio, il coach, come si fa ad iniziare? Perché quando inizi con le competenze, quando inizi non è effettivamente. Woman, girl, devi costruirti delle... No, però non mi piace questo effetto stamattina. Con gli effetti sono proprio un disastro. Cioè, proprio non... Non lo so usare, sono proprio vecchio. Vecchio, vecchio, vecchio. Io ho 27 anni, ragazzi, se ve lo state chiedendo. Non sono così vecchio, però mi sento molto vecchio quando sto nei nuovi social perché sono proprio inesperto. Allora, siete molto più bravi di me su Instagram, sono sicuro. Quindi, woman, devi costruirti dei riferimenti da qualcuno che lo sa fare. Cioè, come qualsiasi mestiere, anche il coach, devi andare sotto a un coach e devi imparare. C'è poco da fare. Da questo punto di vista noi facciamo un master in coaching e management dove formiamo coach e manager. Non è invindito il master, è giusto. Dovete venire ad appuntamento col futuro per solo sentirne parlare. Non è invindita all'esterno perché sono corsi che metto in vendita solo in aula. Appuntamento col futuro è il corso che facciamo ad ottobre a Riccione. C'è ancora qualche posto se volete venire. www.appuntamentocolfuturo.it Però, ecco, ripeto, non... Devi trovarti un coach, grazie. Devi trovarti un coach che... Ormai comunichiamo telepaticamente. Cioè, ho bisogno di acqua. Prima che io senta il bisogno dell'acqua, arriva l'acqua. Ho bisogno che la finestra... Sai che non ci avevo pensato? Io mi stavo a spostare da lì soltanto perché c'è verso che non avevo pensato a chiudere le tende. Guarda un po' la semplicificità. E quindi, come qualsiasi mestiere, devi trovarti qualcuno che ti insegna, ma non solo una teoria. Ti insegna a fare la pratica. Cioè, devi metterti sotto di lui a impararlo. È così. Però, ragazzi, il fraintendimento è che... Dovete partire da voi stessi. Cioè, è lì. C'è questa sindrome che si chiama la coccite acuta che tu ti metti lì a cocciare le persone, a dire alle persone quello che devono fare. Non funziona così. Non funziona così. Cioè, non è che tu impari il coaching e inizi a dire alle persone quello che devono fare. Non funziona assolutamente così. Funziona che... Funziona che devi prima lavorare su di te, devi prima ottenere certi risultati nella tua vita e poi, e solo poi, prima devi cambiare te stesso e poi puoi cambiare gli altri. E questo è qualsiasi coach che si rispetti, qualsiasi formatore che si rispetti ti insegna sta cosa. E non... Perché tutti quanti dicono Ah sì, il mio sogno è aiutare le persone. E aiutare le persone. Sto cazzo, cioè, devi aiutare te stesso. Probabilmente c'è ancora delle cose che devi trasmutare col tuo fidanzato, delle cose che devi trasmutare con la tua fidanzata, delle cose che devi trasmutare nel lavoro. Stai lì a voler insegnare alle persone come vivere la loro vita, ma sostanzialmente vivi ancora dei tuoi genitori, no? Non è così che funziona. Non è che la vostra vita non va e potete spiegare agli altri come si fa. Lo so che divento antipatico quando dico queste cose, ma se volevo fare il simpatico facevo l'animatore nei villaggi turistici. E invece ho scelto di fare un mestiere che aiuta le persone e le sveglia anche a costo di essere antipatico. Pesce dice, mentre qui partono gli applausi, applausi, vai 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 applausi. Questi sono gli alieni ragazzi. Alieni tutti per voi. Vi stiamo aspettando. E tutti questi ragazzi ve li faccio conoscere ad Appuntamento col Futuro. Sono i nostri ragazzi, i coach e manager del nostro staff, che appunto costruiscono quello che voi vedete ogni giorno. E senza di loro non sarebbe la stessa cosa. Guardate qua. Guardate le nostre unioni di lavoro. Guardate le nostre unioni di lavoro. Che poi vi dicono che è così ragazzi. Si può lavorare così, va sicuro? Si può lavorare così. Noi facciamo questo ogni mattina. Va sicuro lo facciamo ogni mattina. Le altre persone ci guardano in perterrete. Eccole là, guardate. Guardate come ci guardano. Questi sono i nostri vicini d'ufficio. Perché stiamo in un'azienda. E ogni mattina accade questo. Cioè ogni mattina ci guardano e sono increduli. Sono increduli perché dicono ma questi veramente fanno... Sì, ogni mattina ne facciamo questo. La sera facciamo questo. Facciamo sempre questo perché si può lavorare nel modo... Ragazzi, quando ero piccolo, io ho promesso a me stesso che non avrei fatto un lavoro mediocre. Non avrei vissuto una vita mediocre, no? Però col tempo ho capito che non potevo aiutare nessuno prima di aiutare me stesso. Allora cosa ho fatto? Ho passato gli ultimi anni della mia vita soltanto ad avere risultati, ma in tale che potevo sviluppare quelle competenze è per dire, ragazzi, si può fare questa cosa. Io la sognavo quando ero bimbo. Quando ero piccolo sognavo questa cosa. Però non lo potevo dire. Non lo potevo dire. Mi dicevano che ero un sognatore che dovevo stare con i piedi per terra. E io mi incazzavo, mi incazzavo. Perché dicevo, no, cazzo, voi non avete capito niente che siete tristi. Non lo potevo dire, però. A un certo punto ho capito che era inutile dirlo. Dovevo farlo. Allora mi sono stato zitto e nuota. Zitto e nuota. Zitto. Ti metti lì e fai. Ti metti lì e fai. Nella tua cazzo di stanzetta da solo con quella cazzo di telecamera che me la ricordo e quando lo dico mi viene da piangere perché mi ricordo quella telecamera io da solo come uno stronzo a fare i video non sapevo se sarebbero piaciuti a nessuno non sapevo se avrei guadagnato non sapevo niente. Sono partito esattamente come stai tu lì che stai col telefono in mano e non sai che cazzo fare nella tua vita guarda che non lo sapevo nemmeno io. Queste cose non le ho lette sui libri le ho sperimentate. Perciò vi dico che coccio si può diventare con i risultati. Queste cose o ce le hai nelle ossa nei muscoli ce le hai impresse ste cose e io questa cosa la dicevo ragà questa cosa la dicevo lo dicevo che si poteva lavorare così lo dicevo che il mondo non funzionava a cazzo che non funzionava la sanità non funzionava la politica non funzionava un cazzo però non potevo dire niente non potevo dire niente perché un altro cazzo dipendevo ancora dai miei genitori vivevo in provincia di Caserta a casa loro che cazzo dovevo fare? Me ne sono andato ho costruito la mia vita ci ho messo un po' ci ho messo anni non si fa in due mesi non credete perché poi lo so che voi comunque siete più predisposti alle opportunità non credete alle opportunità facili di guadagno ah sì adesso io diventi ricco non diventi ricco niente ragazzi lasciate stare ogni mese esce questo network sta rivoluzionando il mondo guadagni passivamente senza fare un cazzo no non dico che sia sbagliato il network in generale ma non è quello il punto qualsiasi lavoro qualsiasi successo deve passare per il tuo impegno altrimenti è una fregatura c'è qualcuno sopra di te che vuole guadagnare sotto di te non credete alle opportunità facili di guadagno perché ti devi fare il culo c'è poco da fare però si può fare si può fare se tu dimostri che si può fare ti trovi magari delle persone con cui con cui realizzarlo puoi dimostrare al mondo che si può fare questo si può fare questo di lavoro così noi stavamo qui quante? 12 ore fa 12 ore fa noi stavamo qua alle 10 e mezza di domenica abbiamo fatto mezzanotte me ne sono andato io mezzanotte perché ragazzi sono restati penso fino all'1 non so fino a che ora siete stati perché ci si mette impegno straordinario ed è divertente porca puttana è divertente ci si può divertire a lavorare fino a mezzanotte era quello il punto era quello che dicevo le persone hanno capito un cazzo e stanno lì a contarsi l'orologio di quanto finisce questo lavoro di verde me ne devo andare perché stai lì a timbrare il cartellino o fisicamente o mentalmente ma si può fare se tu lavori così è divertente è bello è bello lavorare e alzare i propri standard raggiungere degli obiettivi stimolanti è più bello così è più bello lavorare così piuttosto che stare lì a fare 4 ore di lavoro e poi te prenderai a casa perché no che stress il lavoro ma vaffanculo vaffanculo si può fare porca puttana però devi farlo aiutando le persone sviluppando te stesso avendo magari dei mentori che ti seguono e ti fanno feedback che ti fanno imparare noi ogni cazzo di domenica ragazzi ogni sabato ogni domenica ci mettiamo a farci feedback il sabato per noi domenica è riposo di solito a parte quando ci sono i corsi di formazione che è un'altra cosa domenica ci riposiamo ma il sabato è sacro che noi ci facciamo i feedback ogni sabato vediamo cosa abbiamo imparato infatti oggi vi volevo spiegare un po' di cose su come imparare anche da voi stessi se non avete nessuno se non avete qualcuno che vi sa fare i feedback vi spiego io come fare i feedback a voi stessi che può essere un inizio sicuramente poi magari cercatevi anche qualcuno che ve li fa ma vabbè ve ne parlo alla fine così restate fino alla fine dovete restare non ve ne andate allora vedete voler cambiare già un inizio di crescita personale certo Simone però poi dopo il cambiamento va seguito con l'azione perché altrimenti sono solo grandi filosofie come ti vedi tra dieci anni riuscirai a mantenere lo stesso entusiasmo e la stessa vitalità di oggi che è fondamentale per un lavoro come il tuo Ferri allora se stai facendo sarebbe interessante capire il perché di questa domanda Sias comunque è passato talmente tanto tempo io dieci anni fa facevo oggi ho 27 anni ho iniziato a fare l'animatore a 18 quindi sono quasi dieci anni fa e ti assicuro che ho lo stesso entusiasmo e comunque sono invecchiato rispetto a quando avevo 17 anni lo vedo che non ho la stessa come posso dire la chiamerei la stessa energia ma non è che oggi non sia energico e che quando avevo 17 anni mi ci volevano proprio le catene per fermarmi ci vogliono ancora adesso non è che sto dicendo quello però come posso dire ero diverso quando avevo 17 anni avevo 17 anni potete immaginare di come si sta a 17 anni ora che ne ho 27 sono cambiato non ho sicuramente più la stessa non ho magari la stessa la stessa spinta che avevo è che qualsiasi vocabolo mi sembra imperfetto perché poi sono tutte cose che ho anche adesso però sicuramente cambi con l'età ma non se magari stai pensando questo sai perché c'è questa domanda e me la facevo pure io perché magari tu stai lì a pensare che non ti darei abbastanza ma questa cosa accade solo quando tu reprimi te stesso perché quando tu esprimi te stesso io in queste dirette sto esprimendo me stesso ma se no come faccio a fare due dirette al giorno ma ti pare due dirette al giorno senza essere pagato non è che qualcuno mi paga per fare queste dirette cioè mi pagano perché poi dopo grazie al mio lavoro io guadagno anche grazie a queste dirette indirettamente però potrei anche non farle guadagnare lo stesso non è che guadagno per queste dirette e dopo è per quello perché funzionano è per quello che vengo seguito perché altrimenti non se facessi una dieta perché ho bisogno di qualcuno non mi cagherebbe nessuno mi seguirebbe mia madre e basta sostanzialmente e qualche amico questo per dire cosa per dire sì c'è devi darti devi darti al 100% se tu ti esprimi te stesso l'energia è sempre inesauribile conosco persone che anche a 70 anni sono cioè le vedi salire sul palco hanno una vitalità una cosa c'è questo mito che poi dopo si invecchia e si perde l'energia ma no è chiaro che il corpo fisico ha magari dei segnali di deterioramento con gli anni questo lo posso capire 12 anni potevo giocare a pallone sotto il sole sotto qualsiasi costo non mi fermava nessuno magari a 27 anni no ok posso giocare lo stesso ma magari sono un po' più fifino ragazzi giochiamo di sera perché di sera ogni giorno fa caldo eccetera eccetera è normale ma hai anche altre responsabilità no perché magari se vado a giocare sotto il sole magari non riesco a fare altre cose che vorrei fare durante la giornata per esempio però sì l'entusiasmo è fondamentale per il lavoro come il mio ma può essere mantenuto soltanto perché soltanto esprimendo te stesso ma le persone non esprimono se stesse le persone si reprimono e se si reprimono è normale che hanno paura di dare energia per quello ti rispondevo probabilmente dietro questa domanda c'è la paura non di non avere energia ma di non esprimere se stessi perché se tu non esprimi di se stesso allora stai lì a dire no sono fatto vecchio non posso fare più una cosa oppure non ho le competenze non so fare questa cosa e ti trovi mille scuse ma quando ti esprimi sostanzialmente è diverso per medicina c'è qualcosa di specifico scusate te lo scrivo qua ma non so dove scriverlo per medicina devi seguire Federica Masella ha creato un videocorso un videocorso per passare il test di medicina però magari tu già la frequenti quindi segui Federica Masella perché siamo per lanciare un nuovo corso da questo punto di vista comunque anche se segui MediTest Facile insomma qualcosa ti arriverà sì comunque Simone dice c'è MediTest Facile lei dice io ho già fatto medicina vi siete risposti da soli MediTest Facile va bene anche per veterinaria credo di sì perché sono sempre professioni sanitari quindi il test funziona più o meno la stessa cosa tra l'altro Federica ha fatto anche un emergency kit per chi sta Federica è la nostra studentessa il nostro manager sta qui ce l'abbiamo formata noi personalmente posso garantire per lei tranquillamente quindi sì seguite Federica Masella e vi dice lei qualcosa oppure scrivete a lei vi manda comunque entro qualche giorno nascerà anche un metodo di studio per medicina l'ho detto così eh sì certo ha fatto la sua strada Woman dice gli è scritto e non studia più ha fatto la sua strada certo ha dato i suoi esami poi ha avuto risultati con il metodo il metodo che insegniamo noi e poi lei ha preso la sua strada insomma ognuno poi dopo fa la sua strada e come vi dico sempre non dovete stare lì a riprimervi soltanto perché ah no ho iniziato l'università quindi la devo finire no magari non è quella la mia strada certo che per insegnarlo devo essere coerente perché altrimenti non sono coerente e se non ho portato risultati con gli esami non potrei cioè nemmeno io faccio ho proseguito con l'università ho continuato a studiare me l'hanno proposto e mi hanno proposto di fare la magistrale e il dottorato mi hanno proposto di fare un dottorato quando non ero ancora laureato triennale per farvi capire cioè stavo facendo una triennale e un mio professore mi propose di fare il dottorato non ho continuato perché non cioè dovevo fare l'imprenditore ho capito dovevo fare l'imprenditore cioè persone che cercano di fare il medico e persone che cercano di fare il manager va bene così il concetto però è che non dovete farvi incantare dalla laurea perché la laurea ragazzi non vi darà il lavoro cioè non state lì a pensare solo alla laurea perché non non vi darà il lavoro dovete sviluppare delle competenze io ne ho sintetizzate tre lavoro su di sé comunicazione e ricchezza non ve le dico perché ne ho già parlato tanto andate su www.appuntamentopolfuturo.it oppure cliccate sul link che sta nella biografia di Instagram che magari è un po' più semplice l'ho aggiornato il link è la biografia di Instagram e lì trovate tutte le informazioni perché lì vi spiego le competenze che dovete sviluppare venite in aula appuntamento col futuro il corso non costa niente è regalato per quello che per quello che vi do perché vi do cose che costano migliaia di euro venite e vi rendete conto di quelle che sono le competenze per cambiare la vostra vita comunque se è per il metodo di studio puoi seguire lei e vedi che cosa ti dice detto questo vi spiego la cosa che ci eravamo promessi così che ci salutiamo anche allora vi spiego come fare a cambiare a trasmutare una lezione in una linea guida che vuol dire vuol dire che quando tu ti fai i feedback quando tu prendi un feedback non puoi prenderlo soltanto da te stesso scusami da un'altra persona ma puoi prenderlo anche da te stesso perché? perché il più grande maestro di te stesso sei tu è da te che devi cominciare a imparare delle lezioni perché altrimenti non impari niente cioè hai sempre bisogno di una persona che poi va benissimo essere seguiti però bisognerebbe imparare a farlo da sé come si fa? allora intanto bisogna partire scrivendo su un foglio tre lezioni cioè prendete un foglio bianco eccolo qua prendete un foglio bianco non il telefono ragazzi ho detto un foglio bianco quindi prendete sto cazzo di foglio se non l'avete già fatto e scrivete tre lezioni che avete imparato ora io vado veloce poi dopo voi vi guardate la registrazione della diretta perché è più semplice così prendete e scrivete tre lezioni lezioni che avete imparato per esempio cosa ho imparato questa settimana? ho imparato che quando devo essere meno aggressivo se no le persone si arrabbiano oppure ho imparato che devo essere più aggressivo se no le persone non mi rispettano ho imparato che devo prendermi cura dell'energia che porto con i miei genitori ho imparato che devo prendermi cura del modo in cui parlo alla mia ragazza quando le dico buongiorno che ne sono tutto quello che volete sei tu il maestro sei tu il coach di te stesso in questo momento quindi ti metti lì e scrivi le tue tre lezioni dopodiché poi prenditi 5 minuti per farlo e non farlo adesso perché altrimenti non c'è tempo dovete trasmutare la lezione in una linea guida questo ragazzi è un esercizio che do ai miei corsi vi sto regalando una cosa che faccio pagare di solito quindi apprezzatele e cercate di metterle in pratica se no facciamo come sempre che non devo dare le cose gratis perché le cose devi dare soltanto alle persone che pagano e in parte è vero perché quando tu le paghi le informazioni poi dopo le fai vedi tu comunque il concetto di linea guida qual è tu devi parlarti esattamente come se fossi un pubblicitario un marketer che vuol dire vuol dire che devi fare delle cose che restano in mente delle cose memorabili no e perché perché devi fare il marketer di professione magari no magari non lo farai però devi saper parlare a te stesso devi saper parlare devi saper comunicare con te stesso e se ti fai delle lezioni che non ti ricordi allora devo portare più energia ti insegno un modo per fare per scriverti le lezioni imparate cioè c'è un modo ben preciso per imparare lezioni e per ricordarti le cose che scrivi e si fa così queste sono le regole di una linea guida segnatevele queste ve le potete segnare Cri dice ciao Andrea volevo davvero ringraziarti per tutto il lavoro che fai ogni giorno per noi sei un esempio di tutti noi per la costanza per la dedizione che hai grazie Cri molto importante per me ricevere questi messaggi quando li dite mi fa sempre molto molto piacere che cosa dovete fare prendete un foglio e scrivi aspetta segnatevi prima queste regole allora come si fa a trasmutare una lezione in una linea guida allora la linea guida deve iniziare con un verbo prima cosa devi iniziare con un verbo seconda cosa deve essere impositivo quindi deve non deve partire con non fare questa cosa mi spiego cioè non fare questa cosa deve essere fai pensa credi no devi iniziare con un verbo l'ultima cosa è che deve contenere meno di otto parole se contiene più di otto parole non ve la ricordate questa è la ricetta quindi tre cose primo iniziare con un verbo secondo deve essere impositivo terzo deve contenere meno di otto parole che vuol dire vuol dire che deve essere breve cioè una linea guida potrebbe essere faccio per dire pensa alla salute perché tu te lo ricordi pensa alla salute vabbè pensa alla salute perché è una cosa memorabile si può dire al bar pensa alla salute oppure si può dire veramente pensa alla salute dipende dal tono di voce con cui te lo dici noi comunichiamo non soltanto agli altri ma comunichiamo anche con noi stessi quindi è importante per come ti parli vabbè di questo ne parleremo prossimamente quindi che cosa vuol dire vuol dire che adesso cosa devi fare devi prendere le lezioni che hai imparato farlo adesso alla fine della dieta e trasmutarle in delle linee guida quindi se la linea guida questa settimana la lezione sarebbe ho imparato questa settimana devo prendermi cura dell'energia che passa quando parlo con quando parlo con i miei genitori per esempio quando parlo con la mia ragazza come potrebbe essere la linea guida facciamola insieme proviamo a switcharla no devi iniziare con un verbo quindi il verbo potrebbe essere non lo so parla dici se deve essere ho imparato devo prendermi cura dell'energia che passa quando parlo con la mia ragazza lunghissima non me la ricorderò mai parla poi ci potremmo mettere con il cuore non deve essere negativo quindi non deve essere non non aggredire no perché poi il cervello che non riconosce la negazione si ricorda aggredire è no buono aggredire cioè almeno hai deciso che non è buono sei tu il maestro sei tu il maestro di te stesso ragazzi basta guru basta guru di riferimento io non voglio essere il guru di nessuno non è che cioè vi ringrazio per tutti i complimenti che mi fate e fatemeli perché mi aiuta poi il fatto che voi commentate comunque che l'engagement nella diretta la diretta la vedono anche altre persone verrà mostrata ai vostri amici quindi mi aiutate a diffondere questi messaggi oggi magari siamo pochi ma un domani saremo tanti perché è partito così anche con Metodo eravamo quattro gatti e poi sono arrivati centinaia di persone ai corsi quest'anno magari diventeranno migliaia funziona così perché so quello che dico c'è un piano preciso molto molto ben preciso che ho fatto a tre anni non è che ho un piano a due mesi c'è un piano a tre anni di quello che voglio fare come ho fatto con Metodo che in tre anni ho creato un'azienda che adesso siamo a Barcellona con gli uffici non so se lo sapete ma siamo qua ok io ogni tanto ve li faccio vedere questa è la zona dove viviamo adesso non è bella la vista perché è un po' laterale però lì davanti c'è la torre de Glorias la torre quella lì la torre quella lì a forma di pisello no avete presente quel pisellone che sta ecco quella sta siamo qua per farvi capire che qui noi praticamente siamo alla torre de Glorias ma perché vi sto dicendo questa cosa perché prima avevo detto che per dedicarti a un progetto con successo ci devi stare per tre anni perché se non ci stai per tre anni non funziona mai successo e comunque ragazzi per concludere processo per per trasmutare una lezione nella linea guida dovete semplicemente usare queste tre regole iniziare con un verbo metterla in positivo e deve contenere meno di otto parole quindi per esempio nell'esempio che avevamo fatto prima potrebbe essere parla con il cuore vi faccio un esempio così la lezione di prima era detto questo tre punti domani magari mi portate qualche esempio delle vostre linee guida così vi do il tempo di farle tre punti sostanzialmente primo punto devi iniziare con un verbo cioè prendete la lezione che avete imparato ho imparato devo portare più energia nel rapporto bla 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 parla parla con il cuore parla con il cuore quattro parole quattro parole è impositivo sì è impositivo perché non è non parlare con arroganza mi seguite eccetera eccetera insomma quindi è impositivo inizia con un verbo e contiene meno di otto parole le ho dette tutte ok fate l'esercizio e domani bene bene se l'ha fatto mi fa piacere e domani me le fate vedere me le scrivete nei commenti va bene ci vediamo domani e ve lo dico per chi si è perso un po' le dirette uscirà un best of o meglio di di queste dirette su facebook quindi pubblicheremo una replica dato che non tutti potete venire di mattina facciamo una replica su facebook una volta alla settimana scrivetemi per favore in direct nel messaggio privato mi scrivete il giorno della settimana che preferite vederlo quindi magari il giovedì il mercoledì la domenica il giorno che preferite me lo scrivete così così ce lo ci organizziamo e la trasmettiamo comunque sarà un meglio delle dirette quindi potrebbe essere domenica sera per esempio con tutte le diette della settimana sarà un best of ci vediamo domani un abbraccio a tutti ciao